Salve ragazzoli e bentornati sul canale, oggi 14 luglio 2021 siamo sempre su Fortnite per le novità dei negozi oggetti Se sentite casino non ci fate caso ma qua è estate, abbiamo le finestre aperte e stanno a fare lavori da tutte le parti Vediamo subito quali sono le novità Allora armadietto G2Cup, che cos'è? Bando d'armadietto, vediamo un po' che cos'è sta roba Risparmiamo 1200 di bacchia, abbiamo pattugliatore del par, ah ok ok Aspettate che mi tolgo un attimino roba da dosso perché altrimenti qua è in casino Oh eccoci qua, dicevamo pattugliatore del par, molto carina, con il suo deltaplano che è arcana, bello poi lo sfondo di raccolta lascia spettrale E le moti integrata billy di imbalsello, 2100 anziché 3003 Oppure prendiamo il tutto separatamente in questo modo qua Poi cos'altro abbiamo più in basso, vediamo subito Abbiamo gli oggetti in evidenza, giada rossa che già ce l'ho, 800 di bacchia, con due stili selezionabili Mi raccomando questa cena a due, fammi vedere il secondo, veloce 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 veloce, bravissima Poi abbiamo canaglia 1500 di bacchia, con stili selezionabili, più il dorso regolativo, la borza per il furto E ancora abbiamo furfante, stessa cosa, stili diversi con dorso regolativo che è questo qua da 1500 di bacchia Poi abbiamo il dorso regolativo impollinatori personali, reattivo, 400 di bacchia Ancora gufo notturno, 800 di bacchia, poi volo stellato, 800 di bacchia Cos'altro abbiamo? Complex, un costume 1200 di bacchia, con due stili selezionabili, più il dorso regolativo, candita Carino, molto molto bello questo, ed è un costume reattivo che brilla nella notte Poi abbiamo lucentezza stradale, un stiletto di raccolta con stili selezionabili Ancora abbiamo Xyle, delta plano da 500 di bacchia, con stili selezionabili pure lui, molto caruccio Poi cos'altro abbiamo? Schizzo di vernice, abbiamo una copertura animata da 500 di bacchia, molto bello E vediamo più in basso cos'altro c'è rimasto Le offerte giornaliere, abbiamo Synapsy, carinissima questa tipa Due stili selezionabili, 1500 di bacchia, con il dorso regolativo che è lo zaino olografico E più in basso abbiamo Surfista, 1200 di bacchia, bella pure lei, con il dorso regolativo che sono le onde corte Poi abbiamo Bacchetta Stella, 800 di bacchia, ancora il mio idolo, un emote da 200 di bacchia, bella quella Poi abbiamo Gangnam Style, 500 di bacchia, giaccio, Pizza Party, 200 di bacchia E poi abbiamo questo, il bundle, Batman Zero Corazzato che mi ha regalato Firebob, grande Firebob, 3200 di bacchia, Batman Zero Corazzato, bellissimo Con dorso decorativo, strumento di raccolta e delta plano, che figata averli tutti Oppure li potete prendere separatamente, io già ce l'ho, grazie Firebob E poi abbiamo le offerte a tempo, e abbiamo il pacchetto Maeste di Magma, 14,99€ E abbiamo Cuno, l'inceneritore, con dorso decorativo doppio camma fiammeggiante Poi abbiamo Ragnarok in fusione, con dorso decorativo pilomania piumata E poi abbiamo gli occhi di braccio, con questo dorso decorativo, che è il copertone in fiamme 14,99€, molto figo pure questo bundle Oppure potete prendere il pacchetto Dominodizzi, 3,99€, Dizzi, dorso decorativo, strumento di raccolta e 600 Vi bacchino maggio Oppure il vecchissimo, ma sempre figo, bundle di VB ultimo con Joker, 29,99€ Joker, poison ivy, remida, dosi decorativi, florileggio, chimio di morte, l'embrema di mida Poi l'incoronatore, la sciatela, il tiro mancino, la vendetta di Joker, la scia, pesca una carta E 1000 VB in omaggio, molto figo anche questo E poi ovviamente abbiamo i 25 livelli del pass battaglia La crew di Fortnite, l'abbonamento mensile, che ogni mese, 11,99€, vi dà Il pass battaglia incluso, il pacchetto crew mensile incluso, 1000 VB Il pacchetto crew mensile incluso, vi dà Loki Guarda quanto è bello Loki Con il suo mantello di Loki, ovviamente Poi abbiamo lo scettro di Loki, ovviamente Abbiamo il deltaplano che è il carro dei Chitauri E la schermata di caricamento, l'accoglienza di Loki Tutto molto molto figo Vi ricordo ragazzone, se volete supportarmi, codice creatore Supporta un creatore, lord creamore Scritto lord creamore in questo modo qua Tutti gli acquisti che farete ovviamente supporteranno il canale Vi ricordo inoltre che sul sito web www.creamore.it Potete guardare tutti i link per seguirmi su Youtube, Twitch, Instagram, Facebook, Discord, Telegram, eccetera, eccetera, eccetera Uno di questi giorni quel sito lo finirò perché per il momento è solo un ricettacolo di link Però appena ho tempo lo finisco Spero che il video vi sia piaciuto ragazzone Ci vediamo stasera in live su Assassin's Creed Valhalla Sempre su Youtube Oggi alle 13 uscirà un video su Fortnite Dove faremo un estratto della live di ieri sera Siamo stati 3 ore in live, ci siamo divertiti un sacco Quindi vi farò un piccolo estratto Detto questo ragazzone vi auguro una buona giornata e ci vediamo sul canale Ciao ragazzi!